Ambrogio, all'aeroporto grazie Ambrogio? Sì Voglio di qualcosa di buono Di un Ferrero Rocher Ciao! Sto andando all'aeroporto! Sì! Avrei dovuto prendere il volabus Ma invece qui Papa Massi ha deciso che assolutamente Mi doveva accompagnare perché mi vuole tanto tanto bene E dice che il volabus è poco puntuale Quindi Mamavale in missione Aereo, destinazione Sardegna Stasera raggiungo le ragazze che sono lì Per ben quattro giorni di mare sfrenato dalla mattina alla sera Non ho intenzione di fare altro che stare al mare in acqua o in spiaggia E papà rimane qui a lavorare Quali sono i tuoi programmi per questi quattro giorni senza di me? Niente, stare a casa solo a piano Non è vero Devo fare un sacco di cose a casa Cosa devi fare? Non so, c'ho la lista posta, non mi ricordo niente Ma non è una lista che ho fatto io, eh Sia chiaro, se le fa lui le liste Io non ho dato nessun compito da fare C'è la cameretta delle ditte da mettere a casa No, quella la facciamo insieme, aspettami Quella è una cosa da affrontare in due Da soli è impossibile Cominciare Cominciare, no Perché altro bisogna fare spazio E buttare ulteriori vecchi mobili Oltre a quelli che abbiamo tolto dalla sala Sala che nel frattempo sono finiti i lavori Siamo nell'area Kiss & Fly Adios No, vengo anch'io Fino là Vuole venire a tutti i costi Secondo me non ci credi che parli? Ti faccio all'area parli Di Genova Prendi questo? Sì Ci tiene così tanto che io me ne vada Lo lasci solo Mi sta praticamente spingendo dentro Andiamo Allora 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 Grazie a tutti. In un batter d'occhio siamo a Roma, volo velocissimo, neanche tempo di salire, è in quota, raggiunta più o meno l'isola d'elba, ho fatto una bella viratina proprio per farcela vedere e poi ho cominciato la discesa. Ho fatto tempo ad aprire il computer e editare un video e un quarto d'ora e sono di nuovo qua che devo scendere, vado a prendere il prossimo. Le dimensioni dell'aeroporto sono decisamente differenti da quelle di Genova. Camonto, gentilmente offerto da Itar Airways. Arrivata dal Ghero, due minuti per uscire e rivedo le mie bimbe, non vedo l'ora. Non c'è nessuno da aspettare, cominciamo bene. Saranno fuori? Saranno a casa? Si saranno dimenticati di me? Cioè uno si aspetta di essere ricevuto, con baci, abbracci, mamma bentornata, sono tutte qua in macchina che mi aspettano. Ste comodine principesse. Che bello! Che da me è uscita, un caporolo. Chiudami, è un po' che tardi. Chi c'è? Smontiamo la camera. È mezzanotte. Sshh, diamo silenzio. Ciao ragazze. Ciao, sto cadendo. Sono arrivata. No, guarda, perché sei qui? Sennò non sei arrivata. Ti odio già, cinque minuti che siamo insieme e già non la sopporto più. Guardate come sono abbracciate. Io no. Ma tu nel video sembra uguale. No, no, sono bianchissima. Ma domani la facciamo a luce naturale e vi prese la differenza. Comunque io volevo andare al mare domani tipo 13 ore, 14 ore. E mi hanno detto, no, che andiamo domani pomeriggio. Sì, mamma, perché, vedi? Sono. Ma sì, siamo in vacanza, dormiamo. E poi dopo anche un bagnetto, vi prego, il primo bagno. Voglio farlo qua. Dove lo vuoi fare al bombardo? Dove lo volete? La spiaggia migliore. A risalire. A risalire. A risalire. Allontana, allora, un giorno che ci stiamo tutto il giorno. Buonanotte. Ciao, a presto. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.